Grazie Presidente, ma allora il senso dell'ordine del giorno del collega Rossetti è valido e l'impianto è certamente valido nel senso che comunque il sostegno alle attività e alle associazioni sportive è importante ed è giusto che ci sia nei limiti delle competenze, nelle disponibilità. Io lascerai un po' in pace il nome del Presidente Pertini tra lui, i nipoti e quant'altro perché francamente viene un po' citato oltremodo e a volte anche a sproposito. L'invito magari è a fare una valutazione un po' più ampia, e qui mi riferisco in particolare al Vicepresidente Rossetti, questa è una proposta, valutare anche un po' di sollecitare se non già fatto i cosiddetti fondi PICO, cioè il finanziamento dei fondi PICO che comunque anche attraverso questi possono essere destinate quote e parti di contributi anche all'impiantistica sportiva. Ora io poi alla fine condivido la riflessione su, al di là di dove si trova il recipiente con i denari, che si possa poi in qualche modo attivare il cofinanziamento o finanziamento. In questo caso si potrebbe ampliare un po' la disponibilità anche con questo strumento. Dopodiché, ripeto, l'impianto dell'ordine del giorno è condivisibile, quindi eravamo anche noi poi presenti alla richiesta delle associazioni sportive di audizione in commissione, quindi auspichiamo che questo venga quanto prima e dopodiché appunto si potranno magari fare valutazioni anche più puntuali, magari fare anche interventi più precisi. Grazie.